Buongiorno, stamattina io sono sempre lucida come un cartoccio di olio di frittura, ma sono così perché comunque mi sono appena data un chilo e mezzo di crema. Avete visto il vlog, i due mini vlog di sabato e di domenica che sono il mio giretto a Reggio Emilia e il mio giretto all'Ikea? Dicevo, sono andata all'Ikea per prendere i famosi cestoni che adesso poi vi farò vedere perché sì, mi trovo bene con quel metodo, alla fine è già una settimana buona che ce l'ho su, diciamo il metodo di piazzare tutto alla maricondo più o meno. Le cose non sono tantissime, i cestoni sono belli grandi perché io le parti del PAX dove lo metterò sono un metro per 60 per cui ho preso proprio i più grandi. Quindi hanno un costo anche abbastanza basso. Ne ha voluti tre anche mio marito, io ne ho presi due perché comunque una mensolina la userò magari qualche scatola perché anche lui comunque ha una confusione in quell'armadio. Cioè io glielo sistemo più o meno una volta ogni 15 giorni ma non esiste che lui riesca a tenerlo sistemato perché comunque la mattina va di fretta, cerca le cose e non le trova. Insomma un po' il solito che succede a tutti. Ho poi fatto un giro, voi avete visto sempre in questo mini video, in un negozio di Reggio Emilia dove lavora una mia amica ma è un negozio bellissimo. Purtroppo non ho tanta occasione di andarci io perché sono un po' distante ecco. Si trova in centro a Reggio Emilia, si chiama Twiggy e ha abiti per ragazze baradonne curvi. Non sto parlando di taglie forti o cose inguardabili perché diciamoci la verità. Spesso e volentieri questi negozi che millantano le taglie forti, quando poi tu entri ci sono cose che sembrano dei sacchi di patate con i buchi per le maniche, come se le donne che sono in carne dovessero vestire come dei cessi a pedali. In realtà ci sono cose molto carine, voi avete visto il filmato che vi ho fatto, ci tornerò di sicuro almeno almeno prima di Natale per comprarmi qualcosa. Vi faccio vedere il vestitino che ho preso, l'abitino è questo, adesso il colore qua non rende assolutamente perché è un color bordeaux vino, bellissimo. L'abito è fatto così, a riuscire a davanti questo piccolo inserto fatto così, dietro è fatto così. Io vi dicevo non volevo neanche provarmelo perché credevo mi stesse male, a me stanno un po' male gli abiti con il taglio, non è impero, impero mi stanno bene ma con il taglio così tipo un po' trapezzo, adesso io sono ignorante nei termini, mi perdonerete, perché ho un seno abbastanza grande e se io non mi metto le cose un po' aderenti nella parte superiore, sembro sempre gravida di nove mesi perché tutte le maglie ovviamente sporgono perché c'è il seno e alla fine io sembro sformata. In realtà questo mi segna molto bene questa parte fino qui, fino sotto lo stomaco e poi scende svasato, molto molto carino, ha anche le taschine, è un amore, sono tutte cose made in Italy e cose di ottima qualità, infatti ho diverse cose io nell'armadio, diciamo di quelle un po' più carine che prendo in quel negozio perché mi piace da matti, quindi se siete delle parti di Reggio Emilia, Modena eccetera eccetera consiglio altamente di farci un salto. Come sempre regna sovrano il caos perché ormai il mio canale, potete benissimo aver capito che io non trovo pace con niente, vabbè questa l'ho già montata, è una scatola pagata tipo 1,50 euro, una cosa così, di quelle normalissime dell'Ikea che comunque me ne servono, quindi ne ho prese due, questa qui è ancora da montare, questi sono i famosi cestoni, voi li vedete, che sono grandissimi, ma sono giusti 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 per il mio armadio, ho preso poi di queste scatole qua, scub si chiamano, che sono praticamente in tessuto, sono segni rigide sotto e quindi si possono sistemare chiuse le cose, io però non so se li userò chiusi, vabbè quelli sono i binari da mettere dentro all'armadio per farlo scivolare, di queste ne ho prese tre, io di questi scub, della stessa serie scub ho preso questi qui, che sono identici a quelli che ho nel cassetto dei profumi praticamente, ma bianchi, perché ho intenzione di fare una sorta di sistemazione anche del mio make-up, che non è tantissimo, però ne ho, ne ho abbastanza, anche perché tengo cose dell'ottocento, e quindi ci sono anche cose da buttare, però vorrei fare una sorta di sistemazione un attimo più carina, un domani andranno a finire senz'altro nel mobile del bagno, quando ce l'avrò, quello che ha i cassettoni, e quindi il mio make-up andrà a finire lì, perché ora io mi trucco in camera, questi qui ovviamente li monterà mio marito perché io sono completamente impedita, non deve essere difficilissimo, ma ripeto, io sono proprio impedita con queste cose manuali, anche perché poi c'è da togliere una mensola, per cui quello che poi io toglierò dall'armadio, se toglierò mensole e cose del genere, saranno cose che andranno nell'altro armadio, io come vi dicevo, sono sempre in corso d'opera perché ve l'ho già spiegato, io quando sono venuta a abitare qua, avevo tutto ricavato da reciclo di mia madre, reciclo mio della casa dove stavo prima, piano piano stiamo comprando e facendo la casa come noi la volevamo, come la vogliamo, perciò quando di là sistemerò, ho intenzione di mettere la lavatrice, vi dicevo, in quella cameretta, quell'armadio che voi avete visto quando io facevo il decluttering di là, sistemavo, non ci sarà più, ma ci sarà dall'altra parte dove adesso c'è l'asciugatrice, ci sarà un altro packs, ovviamente più piccolo di questo, io adesso sistemo un pochino la casa e vediamo. Cominciamo così, voglio rendervi partecipi del mio assoluto disagio, disagio e ancora disagio. Ora, le cose non erano così prima, sono state buttate dentro perché mio marito, sì, è deciso, non ha deciso, a lasciarmi sistemare il suo armadio in un modo un po' più consone, quindi ieri sera mi ha montato quei tre cosi, i tre cosi, i tre cesti dell'IKEA che sono quelli che poi abbiamo comperato domenica che avete visto nel vlog, penso di ieri, lì, comunque andrà in onda, in onda, va ora in onda, andrà online prima di questo, non so perché dico in onda perché sembra signore delle previsioni del tempo, e quindi sì, lì è rimasto così perché comunque andranno in ogni modo appese delle cose, ho voluto lasciare così perché chiaramente ha delle camicie, delle giacche che è impossibile sistemare diversamente. Il mio armadio invece, che era bello sistemato, diciamo che lo è ancora ma non lo è più, nel senso che io ho fatto mettere anche nel mio questi due, ho messo lì dentro provvisoriamente le scatole che vi avevo fatto vedere l'altra volta, perché oggi comunque dovrei sistemare. Io già sono riuscita a vuotare, adesso li rimetterò con gli affari profumati, tutte le scatole che avevo nel mio armadio e ho riempito soltanto una parte di cassettina e neanche tutta. Adesso piano piano cercherò di capire cosa metterci, cosa non metterci, eccetera, eccetera, eccetera. Stava cascando il telefono. Una di queste due scatole che sono carine andrà a contenere, siccome è più piccolo di dimensioni, l'abito da sposo di mio marito, che andrà a finire con il mio là sopra. Momentaneamente sono lì, poi ho intenzione di metterli nell'altra cameretta. Nell'armadio di là mi tenevano quasi metà anta come spazio, perché comunque ovviamente sono, soprattutto il mio, abbastanza voluminosi. C'era il cerchio. Sembrava una principessa! Sono di principessa e quando mi sono sposata io non so se l'ho raccontato nel wedding tag. Adesso questo vlog verrà di sei mesi, ma mi chiede sempre di fare i video più lunghi. Ci ho preso gusto con questi vlog e adesso ve li subite. Vediamo se spengo la luce, se andiamo meglio, sì. Io avevo scelto un abito molto bello, molto bello. Io sono andata a farmi fare l'abito, lì l'ho detto, da una sarta praticamente, che ha una selezione di abiti lì, presenti nel suo atelier, e te li riproduce, te li fa provare, poi tu scegli, magari vuoi il corpetto di uno, insomma una sarta. Io ho speso veramente poco per il mio abito da sposa, perché sono arrivata circa 700-800 euro con tutte le scarpe. Ho pagato più le scarpe quasi che l'abito. Comunque avevo scelto un bel abito, un po' taglio in pero, ma era di un color avorio, con dei ricami molto grandi, pieni di paillettes, tutte in color, anche quelle avorio, quasi dorato, ma non era, era molto molto fine, con una lunghissima coda, bellissimo. Circa due mesi prima del matrimonio, sì, perché era luglio, mia mamma era in vacanza, io andai a fare una delle ultime prove, prima di cominciare veramente la realizzazione del vestito, questa sarta, aveva una serie di sarte che lavoravano per lei, andai a fare l'ultima prova. In vetrina vidi quest'abito e dissi, mamma che bello Anna, ero con una mia amica, lei mi disse, ma provatelo cretina, proprio così. Ho detto, ma no Anna, ma sembra una bomboniera, mi scambiano per una bomboniera, mi danno ai testimoni, perché io sono abbastanza piccolina, sono alta un metro e cinquantacinque scarsi, quindi facevo cinquantaquattro, e sono in carne, lo ero anche allora, ma ero più magra, perché poi ero anche dimagrita, sapete lo stress del matrimonio. Fatto sta che mi provai quest'abito e scoppiai a piangere. Scoppiai a piangere e Caterina, questa signora che faceva gli abiti, mi disse, guarda Cristina, è il tuo, perché se hai questa reazione è il tuo abito. Io gli ho dissi a mia madre che un altro po' si cappottò dal lettino in spiaggia, perché era in vacanza, quando venne a casa, mi gridò ogni cosa, ma cosa combini? Venne a casa, venne con me a fare questa ultima prova praticamente, scoppiò in lacrime anche lei quando mi vide con quell'abito, cosa che non aveva fatto con il primo, pur essendo che riteneva mi stesse bene, ecco, e quindi quello fu il mio abito last minute, adesso è là a riposo, quando è stato un paio di mesi fa me lo sono rimessa in casa, come una cretina, mio marito mi guardava malissimo. Il mio abito, scusate il riflesso della luce, ma non riesco a spegnerla da qua, era questo, alla fine, vedete, aveva bianco con una coda, diciamo, medio piccola, non era lunga, tutto drappeggiato qua, tirato su qua con delle rose, e qui aveva tutta una gonna plissettata, sotto avevo il cerchio, un cerchio, avevo poi un giacchino corto di pizzo, cioè corto, erano quelli che coprono solo qua, e le maniche lunghe, perché comunque mi sono sposata il 17 di settembre, e poteva far freddo, insomma, e avevo questo giacchino anche per coprirmi le spalle in chiesa. Che bella giornata, io sono innamorata di mio marito come il primo giorno, ma proprio uguale, è incredibile, quando è stato via, quest'estate, che è andato a trovare i suoi genitori, che doveva tornare, io avevo le farfalle nello stomaco. Ancora più disagio, tutto sul letto. Allora, adesso aprirò questa scatola, che vi ho fatto vedere anche l'altra volta, per vedere cosa posso farne. Ikea sono sostanzialmente dei geni, quelli di Ikea. Cioè, questa tu la apri, piazzi, questi due, qua, che hanno delle, degli strap, cioè, quindi, ma io posso mai fare le cose così. E poi ci sono due cose sotto, da infilare qua, cioè due, specie di ascette in plastica, cioè queste qua, da infilare dentro, per fare la parte sottorita. Secondo voi, no? Io vado in bagno un attimo, torno e, Marta, sei sulle cose che, sì, saranno buttate così, ma sarebbero pulite di papà. Hai un bel divano, di là ti ho acceso anche la tv. Un bel giardino, un bel divano. Non ti interessa, eh? Tu sei soltanto una cornuta. Marta, per cortesia, ti puoi levare dalle scatole? No, eh? Che amore, che amore. Senti l'odore di papà, se una maglietta, tu, del tuo amore, del tuo amore.